un cordiale saluto da raffaele la vicchia bentornati all'appuntamento col meteo il satellite ci mostra quest'area di bassa pressione che insiste sul mediterraneo alimentata dalle correnti fredde artiche che persisteranno anche nei prossimi giorni addirittura tra il weekend e inizio prossima settimana è probabile un ulteriore affondo freddo che favorirebbe fiocchi di neve sino a quote collinari sul versante adriatico per quanto riguarda questo giovedì una nuova giornata di maltempo per effetto di questa depressione situata tra il basso tirreno e il mar rionio che porterà nubi in risalita da sud est nubi ricche di piogge anche nevicate sino a quote di alta collina quindi mi aspetto fiocchi di neve sin verso i 600 700 metri di altitudine ma in caso di precipitazioni un po più sostenute potrebbe esserci un calo della quota neve sin verso i 400 metri di quota ma questo solo in caso di fenomeni un po più forti e insistenti il freddo comunque si farà sentire ovunque le massime tra i 4 e i 9 gradi minime attorno allo zero nel settore più interni in alta collina qualche grado in più alle basse quote con questo concluso grazie per attenzione ci rivediamo nel prossimo appuntamento